Avrebbe abusato di lei dopo averla trascinata in un casottino dietro l'esse lunga immediata periferia della città. Questo il drammatico racconto di una giovane aretina e proprio sulla base di questi elementi la procura della Repubblica di Arezzo ha aperto un fascicolo a carico di un cinquantenne di origini romene accusato di aver violentato la diciannovenne. L'episodio risalirebbe allo scorso luglio quando la giovane sarebbe stata costretta ad un rapporto sessuale con l'uomo. La ragazza con una particolare fragilità psicologica avrebbe denunciato l'accaduto ai familiari e alla polizia ad indagare adesso i uomini della squadra mobile di Arezzo guidati dal sostituto procuratore Chiara Pistolesi. Massimo è riservo da parte degli inquirenti. Dalle informazioni che trapelano sembrerebbe che il cinquantenne sia già stato individuato dagli investigatori ma che si sarebbe reso indisponibile lasciando Arezzo e rifugiandosi forse in patria. Su di lui non era stato infatti emesso alcun provvedimento cautelare anche se adesso sarebbe attivamente ricercato. Al momento inoltre su consiglio di medici e psicologi non sarebbe stato svolto l'incidente probatorio per acquisire così come prova il racconto della giovane in un eventuale processo. Ripercorrere quei terribili fatti infatti al momento per la ragazza sarebbe un ulteriore danno. Il fascicolo comunque resta aperto in attesa di ulteriori sviluppi.